Ciao, benvenuti in questo video. Sono Umberto di TrackPoint. La scritta luminosa con telecomando che stai vedendo by TrackPoint si contraddistingue da altre, dai due loghi laterali, i cuori che fuggono, con inciso all'interno la lettera, per farti un esempio, del tuo nome o della persona a te cara. Le scritte luminose con telecomando hanno la caratteristica di questo telecomandino dove puoi selezionare quattro tipi di colorazione, passando dal rosso al verde, al blu, al bianco o diversi tipi di tonalità, ma anche dalla caratteristica di quattro giochi. Uno è questo che stai vedendo, dove tramite questi due tastini puoi accelerare o ridurne la velocità. Le scritte luminose by TrackPoint con telecomando possono essere realizzate a 12 o a 24 volt, compresa accendi sigari. Se ti stai chiedendo ma quanto costa, come posso ordinarla, quanto tempo ci vuole o altre informazioni, beh non esitare, chiama ora il numero tuo in sovrimpressione allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare il 335 446 595 che è anche il numero di whatsapp. Sarà un piacere rispondere alle tue domande o altre informazioni per realizzare la tua scritta personalizzata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Umberto di TrackPoint.